Buongiorno a tutti. Io ho avuto modo di visitare, penso un paio di mesi fa, questo luogo e mi è stato illustrato dall'ingegnere Amman e da altri tecnici tutto quello che è stato fatto. È stato fatto veramente un ottimo lavoro, un ottimo lavoro che pone Legnano sicuramente sempre l'avanguardia anche sotto l'aspetto ecologico e quindi io sono molto contento, non è merito sapere di questa amministrazione perché questo spazio è stato pensato qualche tempo fa, però credo che comunque ne dobbiamo essere fieri tutti, siamo fieri, siamo contenti di avere messo a disposizione dei cittadini un luogo come questo, dove tra l'altro è anche, posso dire una forma anche educativa, nel senso che è talmente fatto bene che il cittadino capisce come si smaltiscono i rifiuti, con quale precisione, con quale pulizia, con quale tecnica, questa è una cosa molto importante. Adesso lascio la parola a Castiglioni che aggiungerà sicuramente parole migliori delle mie sotto altri aspetti. Buongiorno a tutti, ringrazio il signor Sindaco per gli elogi a questa struttura. Il gruppo Amga in questi anni si è dedicato alla raccolta dei rifiuti, ci sono stati più premi come città virtuosa per Legnano, oggi siamo al 63% di raccolta differenziata e se pensiamo che nel 2005 Legnano, l'Amga faceva solo la raccolta per Legnano, oggi i comuni serviti sono nove e altri, visto la qualità del servizio erogato tramite AM Linea Ambiente, società partecipata del gruppo e dal comune di Magenta, ringrazio il Presidente Mercalli che è qua con noi oggi, eccolo. Pertanto ci aspettiamo sviluppi positivi anche in questo ambito e questo sito dimostra la volontà di investire nella raccolta, oltretutto la posizione che è un po' fuori dalla città mentre gli altri siti erano all'interno del centro, non proprio centro cittadino, ma comunque abbracciavano una zona dove c'erano molti edifici, quindi risolviamo anche un problema di vivibilità da parte delle persone. Questo sito è molto fluibile perché ha delle dimensioni per il conferimento dei vari rifiuti semplice, agevole e molto ampio. Questo tra l'altro con una zona riservata alle operazioni di carico e scarico da parte dei mezzi che non interferirà mai con l'accesso dei vari cittadini. Cittadini a cui tra l'altro dobbiamo fare i complimenti proprio perché la qualità del servizio di questa portata è grazie anche al fatto che i cittadini siano molto attenti. Ovviamente ci sono poi alcune situazioni che vanno riviste e sistemate, la società è sempre molto attenta in questo e segue le direttive della nostra amministrazione che ci invita ad intervenire qualora fosse necessario. Ringrazio tutti e penso che possiamo fare un pochino di buffet visto che l'abbiamo organizzato. Grazie.